Qual è l'assenza più rumorosa della mia vita? Sul piano più personale, avendo perso entrambi i genitori piuttosto presto, direi che è l'assenza dei miei genitori. Però allargando lo sguardo, mi sembra in questo momento l'assenza più rumorosa sia quella di una capacità di ascoltare le altre persone, i bisogni del mondo.